Ciao a tutti conciotti e benvenuti in questo nuovissimo video di minecraft sono durati nelle bad wars e quest'oggi voglio provare a fare la differenza voglio provare a fare la differenza consiste nell' Uccidere qualche persona con delle final kill o addirittura spaccare qualche letto non lo so spero bene Ma 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 Questa questa persona che le ti ce l'ha fatta esplodere in casa ma ma che cosa Ma che cazzo c'è un troll nel team A una puttana la tv al cazzo che ci provo è ad andare avanti Ecco va bene può andar di là Ciao bello Ciao bello che fai mori la tnt la tiene ma chi Con chi cazzo siamo in team e me lo spieghi Gli ho detto senti se dovessi un po' Contraverte priorità perché fammi esponare con la tnt e non so quanto sia importante Dai guarda ha cancellato il ponte ma che cosa Che cosa che cosa Aiuto Ma che cosa Ho chiesto a testa di casa che c'è capitata Ottio bellissimo E' bellissimo Non mi era mai successo ti aiuto io frate ti aiuto io Basta Allora no basta Ha comprato le cose apposta io non ci posso credere io non ci voglio credere vogliono giocare questo gioco Giochiamo a questo gioco a me sai che mi frega Mettiti sul lato vai No un po più la piazza della lana così lui si mette a distruggerla Ciao bello ciao ciao Ma è caduto Puttana Si è disconnesso perché si è disconnesso si è disconnesso dai dimmi che si è disconnesso così almeno possiamo giocare che siamo indietrissimo Come il minimo si riconnette dopo 20 minuti solo per distruggerci il letto per aiutare gli altri a distruggerci il letto Mamma mia o il troll pure io non ci voglio credere non voglio ok dovrebbe essere scomparso sto tipo in realtà è morto e ita L'ho fatto esplodere Oddio ma come capo che cazzo Non c'è più ita l'ho mandato via L'ho fatto esplodere ecco ma ora non abbiamo più non abbiamo neanche un'uso ita di diamanti a nostra esposizione L'odio Cioè questo questo è arrivato C'è arrivato la partita Poi l'uncice se n'è andato cucciolo mannaggia lui Ok almeno i rossi ma cos'è quella la fortezza della morte poi diamanti ci sono un diamante un diamante non Ho neanche un piccone quindi non posso neanche andare a distruggere quel letto o almeno non posso neanche provarci Io sono convinto che tra poco tornerà itan itan se la mia nemesi io lo so mannaggia a te Mannaggia lo so fa apposta lo fa Allora facciamo così ragà prendiamo non lo so una spada cioè la missione di questo episodio sarà sopravvivere Perché non è che poter riusciremmo a fare molto è in questa situazione Io ve lo dico tra poco non posso farmi l'armatura almeno quella Dove un pezzettino d'oro e dai e Ecco ma visto che tra poco verranno a spaccarci davvero il sederino a colpi di spadate Mi piacerebbe avere un minimo di armatura perché ha fatto ok che dite se cerchiamo di andare anche verso l'altra isola è l'unico modo Senza diamanti c'è abbiamo ancora il tiro 1 mamma mia che schifo va bene va bene ci devo riuscire per la patria Che in questo caso la mia isoletta per la patria Ma cosa ma non ho messo addirittura ma poi mette una fortezza nell'isola dei diamanti Cos'è un avamposto militare cosa stiamo giocando a starcraft La gente che cade ok ci sono quasi rossi non li vedo io c'ho un piccone la cosa bellissima che se i rossi sono via Io posso andare a distruggere il loro letto non sapete quanto godo se riesco a distruggere il loro letto Anno ok uno un rosso stato appena ucciso devo aspettare che vada via E devo sperare soprattutto che non venga a prendere gli amanti io nel dubbio li prendo Tre diamanti più quello che a casa sono quattro perfetto Stato andando a casa di tal lui sta mettendo l'altra lana vabbè lana non è che mi interessi tantissimo in realtà Stava per cadere tantissimo però abbiamo tanto ferro quello è vero facciamo ultimi upgrade ok Prendiamo il ferro prendiamo tutto quanto mettiamo da parte ciao signor rosso perché fai retromarcia che cosa sta succedendo Raga oggi oggi la gente è un po strana oggi la gente è un po davvero tanto strana dirty man Vabbè che famo ti aspettavo noi è c'è qualcuno che sta sporchia che sta sparando Io volevo creare un attimo come una curvatura a questo ponte Allora senti amico mio c'è un po scassato e qua bello duello all'ultimo sangue duello duella e duella Bello lui cugelo e riga io posso stare qua tutto il tempo che vuoi all'armatura di diamante e ha pure È caduto su no 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 che è successo no no perché sta perché sta ricancellando tutte le cose Non dimmi che è tornato itano ok poi sarebbe il caso di farsi un arco oppure no non so più niente basta non dimmi che torna di qua No dai no Dallois vedo aggressivo e letto verde è stato distrutto buono non sono stati i primi nonostante sono quelli che sono partiti con la roba peggiore Attacca 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 Dov'è? Nooo quanta vita gli era rimasta ok abbiamo preso un po di protection per l'armatura abbiamo due erongole ma che se sono nella posizione Sbagliata perché qui non è che aiutano molto non abbiamo chissà quelli difese anzi vi dirò di più prendiamo un po di legno e mettiamocelo a caso Tipo davanti sopra un po dietro magari tipo così giusto per dire ehi tu puoi provarci anche a spaccare il mio letto ma non ci riuscirai Questa è l'idea No perché Perché No Cioè mi spieghi il tuo ragionamento in che cazzo di team sono capitato io non ci voglio credere perché la tieni c'è Capisco se stesse arrivando qualcuno ma non stava arrivando nessuno zero non stava arrivando nessuno Raga in che cazzo di team sono finito povero wolf guarda povero wolf Di passare avanti indietro e l'hanno però ucciso orca vacca è caduto è il tipo è caduto almeno quello ci sono bro ci sono sono solo in due sono in due sono in due Sto laggando All'arco tanto siamo comunque nella merda Caduto uno Cadica di carica di caro di due Oh mio dio sì lol che provata Oh oh li avevano lasciati tutti grandi 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 Sei diamanti per noi a forse vuole andare lui dei red frate ho sei diamanti aspetta famigli sfruttare un attimino non so neanche se posso far qualcosa questi diamanti Non so neanche se posso fare qualcosa questi diamanti Ne servono 8 per fare la roba utile No infatti non mi servono a nulla forse una hill pool non sarebbe male teniamogli da parte teniamogli da parte tanto arriviamo 8 faccio la partita la fornace No Oh what No da ma vi c'è rotto il cazzo eh ci avevo rotto il cazzo e si suicida perché devi perché devi distruggere i punti cioè Magari qua i piovi di diamanti ora magari Infatti i piovi di diamanti vuol dire che ora 8 diamanti Tu vada e retro satana Bestia immonda 8 diamanti No no orca vacca si ha preso 8 diamanti si è preso Raga ma che partita sto giocando Povero wolf che si impegna anche Cioè fa un po' Fa anche un po' ridere Questo che si impegna come la morte di Strauss che sta trollando il peggio di un cane Facciamo i seri Difendiamoci Questa è l'idea più o meno E vabbè una farciaro ci posso permettere orca vacca Ah no aspetta bisogna anche di blocchi giustamente se non vado da nessuna parte Più sugo più sugo più sugo Che cazzo Che cosa Allora sperano che qui non ci siano rossi Io vorrei andare Sta arrivando non sta arrivando ok mi piacerebbe avere dei diamanti Dai è merdaccia Non dimmi che c'è l'arco C'è l'enderper, c'è l'enderper C'è l'enderper C'è l'enderper No la tiene tiro Oh si è morto Oddio Oddio che pelo C'è l'enderper Cosa sta succedendo in questa partita Ho miei dubbi su dove posso andare a parlare questa partita ragazzi Ve lo dico col cuore Fa tenerezza come si sta impegnando 654 wolf Una partita che è persa dagli inizi Non è vero Non è vero perché vi dirò di più Tutto è possibile Non so se vincere questa partita lo sia Però tutto è possibile O meglio nulla è impossibile Non lo so da quello che dicono i video motivazionale su internet Quando va in palestra e robe varie Ho sette diamanti posso fare qualcosa? No Mi sei dietro? Andiamo wolf È il momento di vendicarci Oh che goduria Porca tro... Speravo di riuscire a prenderlo Invece ci ha fatto il culo a entrambi Ah 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 Almeno ha preso fuoco Bastardo Ragazzi a questo punto io direi Forse conviene abbattere il ponte Che va all'isola dei diamanti dei rossi Lo so che ogni tanto riusciamo a prendere qualche diamantuccio Ma a rischio Mmm... Gioco non vai alla candela in questo caso ragazzi Mi sa Comunque ho 14 diamanti Posso fare qualche upgrade Questo ne costa 12 E finalmente abbiamo gli smeraldi Vai Allora i blu sono tutti nell'isola dei verdi E non trovano i verdi E che è un po' divertente se ci pensi Ragazzi a parte che sia una situazione di stallo Noi siamo messi malissimo La partita non va avanti I verdi sopravvivono da non so quanto Ecco stanno iniziando a morire ora Ho parlato Ragazzi sto prendendo davvero tantissimi diamanti E questo potrebbe aiutarci Visto che tra 10 minuti Prima di siamo ancora tutti team A parte i verdi che non hanno più il letto E... Emerald I have some Che mi vuoi da E dagli Arriviamo a 6 tra poco Comunque ho degli smeraldi Mi conviene usarli Ne ho 14 per precisione Mi piacerebbe Prendere questo a 16 O addirittura il protection 2 Protection 2 non ha molto senso Come ora in realtà Non abbiamo Non abbiamo le armature Aspettiamo per avere più smeraldi Mi servono giusto due diamanti E li vado a prendere subito Perché forse Questa Ce l'hai tu? Dove vai? No 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 dove vai Give me diamonds No no non voglio la funzione Non voglio diamanti Ma... Ehi! Che cosa? Ma... No! Perché la gente che trolla? Perché la gente che trolla? Oh emerald emerald Se mancano due diamanti Abbiamo la fornace al massimo Non è male Ok 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 Eccoli 5 minuti all'istruzione dei letti Bisogna fare più smeraldi possibili Più armature possibili Più mele d'oro possibili Più roba Più roba in generale Sapete cosa? Forse converrebbe investire in Un altro Bellissimo e simpaticissimo golem Visto che se lo possono spawnare due a testa Non siamo nella merda I verdi sono nella merda Noi siamo messi solo estremamente male Molto male Eh ma ho capito Ma cos'è? Legolas lo chiamavano No se mi prende volo Cioè Volo per lui No dai impossibile da così lontano Invece mi ha preso Io sto volando in questo momento Raga è un mito quello L'ho preso anch'io L'ho preso anch'io Goduria Non solo non è una cattiva idea Ma ora mi prenderò l'armatura in diamante Tante tante grazie Non solo non è una cattiva idea Ma Se io comprassi Dagli utility No dagli strumenti Una shears Potrei addirittura Eliminare il ponte che abbiamo con i rossi Perché come vi dicevo Non è proprio la cosa più bella del mondo E un mio dio mi sta sparando quello Ok Spero di asseccarlo Ah che culo vai No Uno l'ho saltato Vabbè Almeno ho preso l'isola Non ho preso neanche l'isola Ma perché prendi i nostri bellissimi Ma che mira c'hai? Per sparare da lì Che mira c'ha? C'è un verde che sta facendo strage ragazzi Ha ucciso il blu Peccato se avesse aspettato un altro minuto L'avrebbe anche ammazzato Ok Oh però ti dirò questa fortezza che ha fatto non è stata una brutta idea Per nulla GG Peccato che sia tutta di sandstone Ne servono 20 per protezione 3 Non so se ci arriveremo a 20 Tutti i letti sono stati distrutti Che figata no? Bellissima sta struttura che stiamo costruendo Che stanno costruendo Io per sicurezza farò anche così Così nessuno ci si può trasportare dentro Proprio caluccia Ti dirò Attento solo alla gente che ti spara Orca vacca Non ci avevo pensato Come sono morto solo io? No Sono morto solo io E Strauss è ancora vivo Ragazzi penso che questa sia stata la partita Più No sense Sono partiti con Ethan che trollava E vabbè Poi l'ho ucciso Ed è Ed si è disconnesso Quindi abbiamo iniziato a recuperare un po' Poi Strauss ha avuto un cambio di mentalità all'improvviso Lui ha iniziato a usare la TNT A lanciare le fire charge Ho detto orca vacca Eccola lì Poi siamo andati alla fine della partita No? Dove tutti i team non hanno più letto E ho detto Dai magari ce la facciamo Arrivo qui tutto convinto Una fire charge E muoio Avevo un botto di roba Ero pronto a dominare il mondo E invece no E invece no E invece no Beh lo so che alla fine è un gioco No è uno non dovrebbe arrabbiarsi Però Sento come La necessità Di scrivere su un pezzo di carta igienica Il nome di ita Perché è proprio una testa di cazzo Ora sono curioso di vedere cosa succede tra 3 minuti Dopo quando compare il sudden death Ok sudden death Oddio che figata Ci sono i draghi Però giustamente sono solo 4 2 per team E cosa fanno i draghi ora? Ah che A una certa I draghi andranno sull'isola dei rossi Quelli blu E li ammazzeranno Ah Chi ammazza prima l'ender dragon degli altri? Figata Quindi si Dipende da chi ammazza l'ender dragon prima immagino Eh però i blu sono in 4 E hanno tutti gli archi Potenziati Se ormai hanno vinto i blu Ma qua gli è passato in mezzo l'ender dragon Ah 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 Bellissimo Ah alleluia Chi ha vinto? Era venuto i blu Infatti avevo detto Ragazzi questa è stata la partita più strana Che ho giocato davvero in tantissimo tempo Siamo un po' fino arrivati Cioè non è che sono arrivato io Ma sono arrivati loro Agli ender dragon Cosa non avevo mai visto Infatti sono contento di averla vista Io nulla Venite su di sulle regioni Conoscere mi piace sui sui canali Se ancora non avete fatto sui twist Comunque voi vogliate E vi saluto Ciao Turo turo tutti